e bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono frank domanda 3 oggi siamo su bostas come avete visto già finalmente ho fatto se non mi sbaglio quelli video qualche giorno fa che avevo raggiunto finalmente le otto nella coppa nella mia stanza c'è sempre buio scusate un momento che accendo la luce raga credo che adesso va meglio comunque vi volevo oggi è una bella giornata che bella giornata se vedete lì c'è bibiotto il mio droider bibiotto vabbè sta dormendo adesso come brawler intenzione di usare uno che c'è un grado basso che vuoi portare tutto il grado 15 ma non ci riesco usiamo amazon guardate bibiotto bebiata un grado io da pochi giorni e per queste due persone mi arrivano i messaggi allora da queste due persone non ci sono non avete visto niente voi andiamo bene andiamo ma quando ragazzi iscrivetevi e lasciate un like quindi ragazzi dopo farò un video tutto dedicato al bibiotto provo a vedere come cammina cosa fa tutto in poche parole vabbè vabbè va bene abbiamo perso coppe vabbè vabbè ragazzi giochiamo ancora vabbè la mia sedia è bellissima ovviamente non per vantarmi non però giusto per un mio scopo perchè è bellissima è bellissima vabbè camperiamo direi sti cuffie sti cuffie ragazzi sono eh di lato c'è scritta la marca non mi posso vedere la marca non non si vede la marca non si vede ok sto alla telecamera perchè io sto registrando con una videocamera no in realtà ho mobizen però al telefono c'è attaccato la videocamera se al telefono c'è attaccato la webcam per fare avere un'esperienza migliore questo guardatino qua che vedete è da mobizen però per avere un'esperienza più in 4k c'ho attaccato la mia videocamera bb8 ci servo beccucco raga perfetto guardiamo queste 3 Aspettiamo il tempo che rispondiamo Vabbè poi si dice ne va Facciamo un'ultima partita Per portarla a grado 11 Non devo girare la testa Se no si vede la marca delle Delle coffe Delle coffe Mamma mia Delle coffe Ecco Quando faccio coffe Io direi che ragazzi Questo può terminare Allora ragazzi Per questo video E' tutto E' piaciuto Lasciate like Ciao Alla prossima